dottore scusi dove sta? dottore? si buonasera e qua io vi ho cercato per tutti appunto soccorsi sto qua sto qua volevo chiedere una cosa perché mi avete messo il gesso? ma vabbè ma di chi? che razzi domande abbiamo messo il gesso perché il braccio è fratturato io volevo un secondo parere non sei con parere sei anche brutto e non un po' di brutti in gesso non sono convinto